faceva molti regali il suo marito che regali scusi sa la ragazzina che frequentava ha nascosto lei i sacchetti non voleva che lo scoprissimo che si venisse a sapere non lo so perché li ho nascosti un po' di auguratori a milano arriva a 43 anni ed è un imprenditore senza precedenti vedo l'indimentabilità ma adesso la storia della fuori è un po' di riscaldamento e un po' di riscaldamento e un po' di riscaldamento e un po' di riscaldamento questa città mi sembra cambiata forse ora con questo omicidio si vedono delle cose in più ma per me è così da anni il dirigente voleva discrezione un ricco è diventato famoso lo era già forse per altre cose aspetta aspetta una foto una foto è ancora ancora vai